Ma che casimmo fai? Oh mamma! E' uscita una con le tette! Abbiamo vinto tutto l'internetto! Hey guys! Benvenuti sul canale degli Amendola Brothers Noi siamo gli Amendola Brothers Ovvero Salvatore Jonathan E Christopher E siamo qui ragazzi quest'oggi per lo speciale 10.000 iscritti! 10.000 ragazzi! Non ci possiamo credere! Adesso andiamo su Omegol e quindi cercheremo di incontrarvi o cercherete voi di incontrare noi Un po' tutte e due le cose Innanzitutto ragazzi grazie grazie 10.000 per i 10.000 iscritti speriamo che questo traguardo sia solo l'inizio per altri tanti mille e milla traguardi e speriamo che il video vi faccia ridere vi faccia vi possiate vedere voi stessi nel video e vai andiamo possiamo andare Allora Inizia subito Ciao Vediamo un po' No No Non ci ha cagato proprio Andiamo bene Proprio bene Bot like Amendola Silenzio Bot like Amendola E Bot Bot Boo Boo Anche tu mi piace Amendola Ciao Eeeeee Ciao Calma Oro Ciao Come ti chiami? Archid 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 Giusto? Sì Grande Grande Come va? Tutto bene? Bene Da quanto tempo ci segui sul canale? 3-4 mesi 3-4 mesi Quali sono i tuoi video preferiti? E' il pronostico di Napoli Il pronostico del Napoli Ma di dove sei? Sei napoletano? No Se dall'accento direi fammi indovinare Sei siciliano? No No Yeah Ho indovinato Viva la Sicilia No io ho indovinato Viva la Sicilia Io sono un grande 10-4 mesi Devi creare un altro canzone 10.000 Grazie 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 E grazie a voi E grazie a voi Siamo arrivati a 10.000 Ma Giornano Sembra il cantante del volo E grazie a voi E grazie a voi È un sogno che diventa realtà Grazie Ciao Buona giornata Ciao Ciao Non ci schippate Non ci schippate Non ci schippate Chissà fare boffo rapper Ma che dici Acchiapperemo qualche bella pisquelletta Quello è sempre il tuo obiettivo Trovare qualche bella ragazza Ma non ci sono Ci sono Ci sono Non ti preoccupi Non ti preoccupi Te l'hai diventato un assassino Sono io Gasim Ma che Gasim fai? Oh È uscito Una con le tette Abbiamo vinto tutto l'internetto Questa ce la devi mettere per forza Quello Faceva pure il balletto Eh Eh Ma perché? Allora voi andatevi adesso Continuo io lo speciale Ma perché? Ma ti credo io Troppo ho dovuto schippare Ma può darsi pure che era fake Era un filmato così Ma che Gasim fai? Oh È uscito È uscito una con le tette Abbiamo vinto tutto l'internetto Oh You touch my tralala My ding ding dong Random stream Vedo un'altra tetta No 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 Questo è un bandalone Zenzus Pedofilo 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 Gliela metto però la censura Logicamente Ci credo che schippa Quando non c'è la telecamera Schippa Che cacchio vediamo a fare Ma è capace che sta caricando E poi all'improvviso C'è una che fa così Da oggi in poi io sarò Quella che fa così Tutti qua Vai Cacciamo le tette da fuori Tutti qua Ma la domanda è Ci sarà il capasottaro Eh chi lo sa Lo aspettiamo Gesù Gesù Quella è 5 stelle E c'è Quante stelle era The Walking Dead C'è proprio quella Da The Walking Dead Ragazzi Ospiti speciali Nel speciale di Omegle Gesù Direttamente da The Walking Dead Ma era proprio lui Ci mancava solo il cappello di lagna Amendola Amendola Ciao Capasottaro No che ecco No Chi è Chi è Checco No se è Checco Si è Checco Si è Checco Si è Checco Si è Checco è cresciuto parecchio E poi è dimagrita Cioè è cresciuto in altezza Guardate Ti sei messo purtroppo il cappello come lui Ma che lo sapevavate Si pavavate Umane ma Checco Lecco Il DJ Checco Lecco Ma ci senti Secondo me non ci senti Secondo me lui vede solo tre persone No non ti sentiamo noi Non ti sentiamo noi Salvatore sta facendo la struvita Perciò muove la bocca No abbassate il volume Ah pensavo che tenevo A telecamera Un microfono Si tele trasporta Hai visto Ma sei come Go Vabbè Che cosa No ci vediamo un'altra volta Grazie di aver partecipato E grazie pure a te Per essere iscritto al canale Youtube Degli Amendola Brothers 10.000 questa volta 100.000 la prossima volta Mi raccomando Magari Tu dillo Mettiti col megafono fuori alla scuola Signori e signori Iscrivetevi al canale Degli Amendola Brothers Così arriviamo presto a 100.000 E facciamo Non farò Voglio il filmato Voglio il filmato Cioè se fai il filmato Lo metto su Youtube E ti spammo ovunque Vediamo Looky for someone Oh Stranger Oh Fabi J Fabi J Fabi J Fabi J Fabi J Ma non l'abbiamo nemmeno salutato Stava giocando poi Si mette a giocare su Omegol E poi stava giocando un gioco Come si chiamava quel gioco Forest Forest The Forest di Forest Ant'anni fa Di Forest Ant'anni fa Ciao John È il mio Siccome non mi posso connettere su Omegol Mi potete salutare in diretta Grazie ancora a Guroni Purtroppo Non lo possiamo fare Non ti possiamo salutare in diretta Giuseppe Bruccoleri Non possiamo salutarti Giuseppe Bruccoleri Purtroppo Se vieni su Omegol Ti salutiamo Giuseppe Bruccoleri Ok Ciao Giuseppe Bruccoleri Se vieni su Omegol Ti salutiamo Oh qua abbiamo trovato un altro Ciao Ma è Ne ha dato Gesù Si è lui Ma mi fa ragione Guarda lo so fare pure io Ma facciamo una La gara La gara delle ciglie Guardi Guardi Saluto Vai tu Con una sola Una sola Riesci a alzare una sola E una sola è difficile Lo batto Sto vincendo Sto vincendo Sto vincendo Ma sei stupido Oh però botto Like a mendola adesso Like a mendola Stiamo gli amendole Hey guys Benvenuti su Omegol Degli amendole a bro Tu sei un terra base Una terra base Ciao 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 Chi sei? A mendoli E' una telecamera E' qualcuno di Di multiplayer Per chiamarci Sono Kevin Grande Kevin 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 Che stiamo facendo il tifo Buona No Perché Grande Kevin Uno di noi Pazzi maniaci Ma qua pazzi maniaci Qua già abbiamo trovato una ragazza La fotocamera è esplosa È colpa tu Fai esplodere le fotocamere No non sono stato io È stata la ragazza di prima Con le tette da fuori Che faceva così Abbiamo incontrato Una ragazza con le tette da fuori Che faceva così La vedrai nel video Dopo la vedrai Una bella patanella Esatto Con le tettanelle Va bene Ora siamo a 10.000 Speriamo di vederci presto Per quello dei 100.000 Sarai nel video Con Christopher Che fa lo stupido dietro Sto morendo Va buono O poi ci vediamo Ci sentiamo Ci vediamo Nelle dirette di multiplayer E sul canale Ovviamente Ti vogliamo sempre attivo Sto andi mi piace Per gaming Quindi Grazie Ciao Karin Buona giornata Gennaro Gaming Ciao America Ciao a me Mi salutate Un saluto per Gennaro Gaming Venite su a me Venite Tutti su a me Ma questo la saluta E quell'altro la notte Ok Oh 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 Qui c'è un altro Ciao Vai camendo anche lui Siamo noi Sì Aspetta Sono chiamendo la brothers Aspetta ma noi Siamo chiamendo la broda Ma noi Siamo chiamendo la broda La telecamera Aspetta una foto Una foto Una foto Fai una foto Fai una foto Fai una foto Ma siamo noi chiamendo la broda Ah è giusto Facci una foto Ciao Facci una foto Ecco Ok Ok Perfetto Mamma mia Ciao come ti chiami Ciao come ti chiami Senti proprio mamma mia Allora tu sei Nico Sì Davo Ma lo faccio io dovevo fare il mago Perché la forza è con me Perciò Perché aveva scritto sulla pagina facebook Che ci stava cercando Ma allora tu sei paresano Sì sì Di dove sei? Di dove siete voi? Perché la C'è Abitavano a Castellammare Dove erano? Mi padre è del rione caporivo Coppa a capororino E l'ha visto proprio là Più o meno Proprio là L'ha vicino Ah è Una volta forse eravamo vicini di casa Non lo sapevamo Mi sa che quando abitavamo L'ha l'ho ancora Comunque grazie Nico Di essere iscritto al nostro canale Di seguirci Forza Juve Stabbia Forza che se l'ha male di Stabbia Sempre Grazie alla mare Ciao Mi raccomando Continua a mettere i mi piaci sotto al video E questo video qua Due mi piaci Perché ci sei pure tu dentro Ok Grazie mille Nico Sei un grande Nico Ciao Ciao Nico Ciao Troppo bello quando succedono queste cose È vero Gli iscritti Gli voglio proprio bene Sono perché sono iscritti Gli voglio bene Io voglio più bene gli iscritti Che a Christopher Pensate Ah sì Sto morendo per fare sto video Che è Aiuto Bella cucina Ma che cosa sta vedendo in tv Uomini e donne Pornhub 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 Ma quelle sono le foto dei morti Perché Mi dispiace per i tuoi morti No sono le figurine panini Guardi perché sono ben zobusto Perfette Ciao ragazzi E benvenuti Che schifo Ma che schifo Ma che schifo Pornhub 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 Sono me con le normale È tutto normale Cioè Noi stiamo registrando Lo speciale dei 10.000 iscritti E troviamo la gente Con i piselli di fuori Che schifo È tutto normale È tutto normale Aprite un po' la finestra Però avete tutto chiuso Un po' d'aria No Eh vabbè Poi c'è purtroppo te Lei c'ha pure gli occhiali da sole Cioè Con la finestra Giuso gli occhiali da sole Sì Lei è Lei è normale Perché lei è Perché lei è normale Sì Lei è normale Ok E io non ce l'ho il cappuccio Però Ah ok Ah ok Perfetto Ma lo sapete che adesso Eccola là Eh C'è gli occhi Ce l'ha fatta C'è gli occhi così belli E li nascondi Com'è sto fatto Non va bene Comunque ragazzi Come vi chiamate Io Giulia E lei Laura Giulia e Laura Ciao Giulia Ciao Laura Jonathan e Salvatore E Christopher Lo sapete che adesso Sarete presenti Sullo speciale Dei 10.000 iscritti Degli Amendola Brothers Vi fa piacere Sì Stanno esultando Quindi Mando il link Il video sarà messo Nei prossimi giorni Questo è il nome del canale Ok Un bacione ragazzi E grazie di essere state simpaticissime Buon divertimento Ciao 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 Piacere Sono Luco Skywalker Ciao Ciao Piacere la maglia di Star Wars Grande Star Wars La mia è meglio Per certo Alone in the dark Alone in the dark È bellissimo È bellissimo Che cos'è questa voce? Chi è? Gialieni Sono con noi Perciò ha detto a starubella La maglia di Star Wars Io ho paura È dell'impero Sabato era dell'impero Bambam 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 E' un band Wake up Wake up Wake up Wake up Sveglia 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 E' di nuovo Kevin No forse è qualcun altro Kevin Levine Kevin Spacey It's Kevin Spacey But like me Stiamo chiamando la blood Se pensi che possa cambiare il mondo Ti sbaglia la grande E' già tanto se mi cambio le mutante Voglio solo darti un emicraneo lancinante Finchè non sbagli nel voto come uno stuntman Pensavi che sparassi palle Ciao 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 Stai per questo Aiuto Stiva 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 per quella ragazza Lo sentita Io voglio passare ad un livello successivo Mi vedo Mi vedo Mi vedo No E' di Sheeran No E' di Sheeran No Per piacere No Ci ha rovinato lo speciale Eh ma il Samsung Galaxy E' meglio eh Voglio Ah vuole il tuo pazzo Questo Voglio qualcosa Sì 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 Lo voglio Sì Così Così me la fia Che ha detto Eh meglio che non te lo dico Voi andate via Ci penso io Ci penso io Voi andate via Allora dove hai detto che lo vuoi Sicuro Vedi che è bello grande Però il mio è più grande Quello non te lo posso far vedere Suomegol Perché stiamo registrando uno speciale No se ce l'hai pure tu Allora lasciamo perdere Non fa niente Lasciamo perdere Ciao ragazze Rivederci Non mi chiamo Simona Mi chiamo Pasquale Aiuto Salva corta sorpresa Che cerchi le ragazze Su amico Sei un pedofilo C'hai il 50 anni E vai dietro le ragazzine Pedofilo Noi stiamo registrando lo speciale Dei 10.000 iscritti E tu Subisella Forva presso E creatur E creatur Non lo fare più Non lo fare più Metti il pisello Nella mutanda E vattene pure tu Willa Willa Grande All right Song very nice Che ci posso far So chic Sfuma doppio Gioco a bagara Simpi Ma è un cartone animato nuovo A me sembrava tipo Oh rabbia Il porcellino di Winnie the Pooh Oh rabbia Io sono Winnie the Pooh Ciao a tutti Io sono Topolino E sono Quincy E il mio amico Pimpo Io sono Simpi Ciao Come ti chiami? Tu sei Simpi Io sono Pimpo Abbiamo tutta la Walt Disney Qua a casa Abbiamo pure Sabato Le Conte Tira a me Sabato Ti stavo parlando io E dicevo Ciao Vediamo quindi chi è A un certo punto Mi stagionato Dicevo Andò Io sono riuscito 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 Ma da quanto tempo Ci stai cercando? Non mi trovo Non mi trovo Trovo trenta volte A un certo punto Dove qualcuno Che mi chiede Maschi o femmina E c'è Ragazzi che si provano Ragazzi che si provano Come ti chiami? Poi uno mi scrive Come ti chiami? Per troppo pazzo Non sono una ragazza Ci sono riuscito Di provare A data male E qui sta E questi qua Ma sono riuscito Mi sono riuscito Per troppo pazzo Su Omeco Ce ne sono Però ci sono anche Le ragazze Senza le magliette Quindi Ne abbiamo prese Due o tre Poi vedrai Nello speciale Nel video Dello speciale E dico io Alleluia Alleluia E bravo E dove sei Visto che sto Anche registrando Un video mio Potete salutare Perché vi adoro Assolutamente Cioè vi guardo Ogni video Guarda Salvatore Quanti volta Quando sclero su FIFA Ah oh che serie Ogni volta Si mette sempre a litere Quando vi guarda Quindi se gli fanno Un saluto Veramente gli fanno piacere Jenny Jenny Ciao Jenny Ciao Jenny Scusami No stavastano Solo Jenny Solo Jenny Scusami se sclero Troppo su FIFA Però quelli mi fanno arrabbiare L'ultima partita 0-0 Con Milan Puzzo Massano E quando mi vengono Mi ricordi Posso stare la chitarra Prima che hai scassato Già abbiamo rotto Lo specchio Esatto Ecco Quanto tempo sei iscritto Al canale Dei Amendola Brothers Eh sono iscritto Da quando fate I pronosti Siamo 14 Wow Minchia Guarda tantissimo Allora Grazie di aver fatto di tutto Per incontrarci No no Sicurale Vi è stato un piacere È gracissimo Cioè lo Appena ho visto il messaggio La cosa è stata fatta No 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 Accendo un micro Accendo un computer Accendo un micro Grande 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 Antonio Grazie di essere venuto E grazie per i 10.000 iscritti Perché tu sei uno di quei 10.000 Va bene Ve li meritate tutti Uno su mille Buona giornata Ciao 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 Sì 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 Grazie Grazie Vabbè ragazzi Come primo giorno Finiamo Andata bene A parte i pedofili Vabbè che li taglierò Però va bene Vabbè Grazie ragazzi Per questa prima giornata A tutti quelli che hanno partecipato Ci vediamo domani Di nuovo qui su Omegol Per lo speciale 10.000 iscritti Vabbè Voi lo vedrete in un solo video però Vabbè sì Ovviamente Tutto in un solo video Guarda Guarda A chi devo guardare Grande Grande Facci sentire qualcosa Sembra Will Bush Nulla di tante La sai fare Nulla di tante Pure noi abbiamo la chitarra Vai vai Salvatore Vai Fagli vedere Nulla di tante Vai Allora Aspetta 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 Aspettiamo Aspettiamo Ah perché c'è gli occhiali della piscina Sono uno dopo Vieni bene Sto a trovare la chitarra Vai 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 Salvatore Vai Vediamo chi è più bravo Vai Maestro Attacchi Prego Prego Suonami Nulla di tante Cosa Io vado improvviso Vai Improvviso Vai Fammi Fammi No Addirittura Addirittura Così 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 E' finito il primo giorno Qui su Magon Ma domani siamo ancora qui Voi nel video vedrete tutto attaccato Ma noi No Ci vediamo domani Cliccate mi piace Oh Yeah Oh yeah Pure tu E come lo fai vedere il vetro Eccolo la Pam 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 E' un personaggio famoso il nostro specchio rutto Ormai è più famoso di noi Va bene Nicola grazie di averci seguito e di essere qui nel nostro speciale Sei un grande Sei un grande perché sei iscritto al canale degli amendo la brother Fai iscrivere pure a mamma papà lo zio la zia la zietta la ziona la zia tutti quanti cugini mi raccomando continuo a seguire gli amendo la brothers e faccio pubblicità 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 Ci vediamo alla prossima ciao 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 Nicola Comunque siamo partiti qui in questo secondo giorno Salvatore Eh subito Subito direttamente Sembrava che partissimo un po' a rilento però poi invece siamo partiti subito Sembra che quasi siamo già da 20 minuti registrati Eh invece subito mi avevo trovato un iscritto Dai chi ci incontra che cosa ha in omaggio Chi ci incontra in omaggio un orologio del panoli appena comprato a soli 2 euro e 50 Ma perché del panoli Eh perché come la mano a marrucchino che abbiamo visto prima Ma che droga ti fai Salvatore La Napolina Mi chiamo Lorenzo allora Ok un saluto a Lorenzo uno dei nostri 10.000 iscritti No ha detto non è un canale youtube quindi non è iscritto Però viene a cliccare sempre sul canale Grande Lorenzo ma è una trollata In che senso è una trollata? No Lorenzo ci sei? Sei qua? Con noi? Stai vedendo il video adesso? Sei un grande Lorenzo perché non solo non c'è il canale youtube Non solo non ti puoi iscrivere Ti guardi i nostri video quindi sei un grande due volte Stato loro io ho trovato abbaggio Pure qua mi prendono in giro Pure qua ho trovato abbaggio Pure suomego lo trovano abbaggio E io non l'ho trovato Bottola al camendola Ciao 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 Siamo noi Siamo noi Si blocca tutto Ciao guarda lì la faccia Ciao 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 Ne andiamo noi Non ti spaventare Mi mettete su youtube Sì ti mettiamo Ti mettiamo Già ci sei Adesso sei youtube Chi è io sento una voce di una bambina Ciao Come ti chiami? Come ti chiami? Scrivici come ti chiami Come ti chiami? Come ti chiami? Così ti salutiamo Manuel grande Un saluto per Manuel e per la sorellina Perché io sento la voce della sorellina Alla vicino Va bene Ora vado Va bene Ciao Manuel Grazie di essere passato a salutarci Ciao Manuel Scemi Specchio riflesso Senza ritorno Vai Senza ritorno E tocco ferro E non vale niente più Ormai è nello Doppio bollato Contro bollato Vediamo che dici Manuel Sono curioso Cosa scriverà? Il codice da vinci? Cosa scriverà? La parola va nel No Ci ha fregato Stato devi fregarlo tu Vai Vai Come la parola va nel cesso E io faccio Lo sciacquone Ma non fa rima Sciacquone Non fa rima Ti vedrai su Youtube E tu fai lo stupido Ma chi siete? Ma chi tu sanno? Poi un giorno lui cercherà adesso Adesso cercherà Tutta la sua vita questo video Ma non lo troverà mai Siamo proprio cattivi Mi piace come ragiona Quella tua testolina malvagia Io Io Markat Tutto l'assassin Credio Io Voglio sapere Desmond Dove sei Non importa neanche se Fanno schife combattiment Se attaccano una alla volta Dimmi che male c'è Ciao Bella maglietta Non staccare Non staccare Non staccare per piacere Stiamo facendo lo speciale 10.000 iscritti Se non stacchi facciamo 100.000 Vediamo cosa dice Cosa sta scrivendo Che canale Amendola Brothers Vai subito con la pubblicità Amendola Brothers Siamo troppo emozionati Scusaci Non avevamo mai incontrato Una maglietta così bella Eh bravo Sì è una bellissima maglietta Vorrei capire cosa c'è scritto sopra When No Guess Jeans Guess Jeans Ah ok Indovina i jeans Indovina Indovina Allora Se non li vedo i jeans Manco posso indovinare Però secondo me sono blu Ho indovinato Ho indovinato Ci siamo Grande E una è andata Di dove sei? Allora Indoviniamo Aspetta Secondo te? Secondo me è siciliana Secondo me È del Piemonte No No Non è siciliana No nemmeno Se sei napoletana Abbiamo sbancato Napoletana? No Puglia No Non ne incarriamo uno Non ne incarriamo mai Puglia Ho indovinato? No Sto cercando un mio amico Va bene Ciao Ma perché? Grazie Grazie che ti iscrivi Grazie Abbiamo la maglietta rossa Ciao ragazzi La maglietta rossa Iscritta al nostro canale Sembrava impossibile Ma ce l'avevamo fatta Questa playstation L'ho comprata Da un film di Hollywood Con quella grafica poppata Poppata Ma di più Con il Di fiato Di cioccolato Tu mi piaci Non ci sembra più Quando faccio Rappo frate Cosa 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 Ecco Poi l'hai visto Dietro Ah manca I green skin È vero Ci dobbiamo attrezzare Quello le manca Io c'ho persino le luci Qua sopra Da montare Come si chiama il tuo canale Vado a dare un'occhiata Oh no Pochi iscritti Eh non fa niente Mica La qualità dei video su youtube Non la fanno gli iscritti Ce ne ho due di video Quindi non serve neanche un cazzo Vabbè Almeno ti stai attrezzando Con le attrezzature Dai Perchè vederci Va bene Dai Ti iscrivi Staccatissimo Sono stupido Perché è staccato Ciao Amendo Uè Ciao Chi è Amendola Botto like a mendola Like a mendola pure lui C'è anche salvatore lo studio The swordsman No Grande No Il grande swordsman Siamo noi che non ci crediamo Una foto Una foto Aspetta una foto Ma non si vede niente Eh non lo so perchè E vabbè una foto con la scritta Con la scritta vai Aspetta ma si deve mettere lui in boss No no la cam Non ti preoccupare Vai Jonathan È lui È lui È swordsman Abbiamo fatto noi la foto Non ti preoccupare Grande Stavamo per fare una Una scenetta qui Su Omegol Con la parrucca Stavamo facendo gli stupidi Jonathan che fa il trance Io Tu Io faccio il tram E io faccio il bassa Già sono un po' bassa Ci serve un treno E stiamo a posto Swordsman Swordsman non perderti il video Allora sarei nel video Grazie di averci cercato Pure se non avevi la webcam Non fa niente Ma è grande Swordsman Viene su multiplayer Viene sul canale No su multiplayer Pure è venuto qualche posto Sì Una sola volta Mi ricordo su YouTube Commenta tanto Ma da parecchio pure Da Da proprio Da quanto tempo sei iscritto Swordsman? Avevate tipo 2000 iscritti Appunto Proprio Due anni fa Più o meno Quasi all'inizio del canale Del canale Grazie Swordsman C'è un grande Ciao Ciao Swordsman C'è pure la mia ragazza Qui con me Guardate Amore non voglio venire Dentro la telecamera Lui non vuole Lei Cioè lui Lei non vuole venire Nella telecamera Perché mi vergogna Perché si vergogna E' timida la ragazza Posso far vedere Solo il mio culo Questa te la potevi risparmiare Dice Per far vedere Solo il di dietro C'è un po' di barba La mia ragazza Però Bot like a mendola Ciao Siamo noi Ciao Tutto bene? Grazie Come ti chiami? John C No Chi è? L'NBA Vedo Kobe Bryant Grande Grande Kobe Bryant Bella notizia Io pure faccio pezzo E ho trovato Baggio Hai trovato pure tu Baggio? Ma tutti C'è il terzo Che stavo a pazzo Già Suomeco l'abbiamo incontrato Già un altro ragazza Che ha detto Ho trovato Baggio Jonathan Ma tutti lo trovano Solo io no Ah allora è quello che ho visto Mi hai mandato Quello il link Sì allora l'ho visto L'ho visto Complimenti Beato te che l'hai trovato E ti diverti Io non lo trovo mai Pure Ronaldo A FIFA come vuoi Ma come fai? Ma sei un crante Un crante Come ti chiami su YouTube? Flux Vabbè Ah Flux Mi ricordo Grande Flux Grande Flux Grazie di essere passato A incontrarci Grazie 10.000 10.000 iscritti Sei uno di quei 10.000 Continua a seguirci 10.000 Grazie 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 Flux Ti chiamo Flux Così E la Z La Z La Z Vabbè la Z Non va bene Ma ti piace pure NBA C'ho la maglietta di Kobe Bryant Grande NBA Grande Ma a te piace Michael Jordan? Eh vabbè però Mi piace il basket in generale 3 skip Suo amico Le ho trovato subito Grande Cioè Fortunato su PES Fortunato su FIFA Fortunato su suo Mekol Ma non è che ci Se tocchi un 20 pound Non è che ne puoi trasformare In 50 100 200 Allora tu la prossima volta Appena ti trovi a Londra Tu me lo dici Vieni a casa mia E ti faccio spacchettare Due Esatto Due cose su PES E su FIFA Va bene Ci vediamo Grazie di essere passato Ciao Flux Grazie Ciao Sei un grande Ha belli capelli Amendola Like amendola Ciao Sapete tu Toglitesti i capelli Perché sono i miei capelli Deve fare sempre lo strupido Deve fare Swordless Man è lui? No Si è Swordless Man No l'abbiamo anche visto Si Doppia foto Doppia foto Vai Frenzo Frenzo Subito Subito Grande Pure lui Cioè ce la faccio Aspetta Non mi va sta cosa a capo Però Aspetta Aspetta Una foto decente Vai C'ha degli anelli Troppo fighi Voglio i tuoi anelli Mamma mi guarda La proprio pieno Grande Per colpa di lavoro Quello è per tenere la spada in mano Swordless Man Deve tenere la spada Così è più resistente Ogni anello Dà una nuova skill È vero È vero È vero Grande Grande Un anello per domarli tutti Esatto Esatto Grande Ora sono felice Posso andare in pace Esatto 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 Ti fa pure la benedizione Ora puoi andare in pace Arrivederci E continuo a mettere mi piace Sempre Fino alla fine dei nostri giorni Noi suoi perché vi auguro di campare in min per sempre Ciao ragazzi Grande Ci vediamo al prossimo live 300.000 iscritti Magari Magari Ciao Ciao Swordless Man Di nuovo tu C'è Ma allora C'è È vero che c'ha C'ha fortuna È proprio nato fortunato Questo ragazzo È vero C'è Baggio Amendola Brotess Due volte Non si possono trovare i doppioni su Pest Trova un altro Baggio Solo lui lo trovo Perché non lo trovo Infatti lo chiamavano San Flux San Flux Eh Perché lui fa i miracoli Caro Da oggi poi facciamo le preghi Prima di spacchettare Facciamo le preghi Flux Dacci una mano tu Caro San Flux Fa sì che mi esca Baggio Lo dirò nel prossimo spacchettamento di Baggio Se mi ricordo lo dirò Lo dirò Un saluto per San Flux Ciao ciao Va bene ragazzi Finisce qua lo speciale 10.000 iscritti su Omicol Speriamo che possiamo farne presto quello dei 20.000 Quello dei 100.000 Quello dei 200.000 Quello di un milione e mezzo Vai Poi una volta che abbiamo superato il milione di iscritti ragazzi Facciamo uno speciale al giorno Lo speciale un milione e uno Lo speciale un milione e due L'ospedale pedofilo Grazie mille ragazzi di aver visto il video Come al solito se il video vi è piaciuto cliccate un bel Mi piace Grazie a tutti quelli che sono venuti qui su Omicola ad incontrarci Siete grandi Ma anche quelli che non hanno partecipato Che sono solo iscritti al canale di Amendola Brothers Grazie 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 10.000 Dobbiamo dire una frase strupita da youtubers Però la dobbiamo dire Grazie 10.000 Grazie 10.000 a tutti quanti ragazzi Ci vediamo al prossimo speciale Sicuro che hai 20.000 iscritti Agli altri video E poi ovviamente ci vediamo ai prossimi video Ah se per caso il video non vi è piaciuto Perché può capitare Come fa non piacere Come fa non piacere C'era pure la ragazza Eh bravo Se per caso il video non vi è piaciuto Perché può sempre capitare Che non vi sia piaciuto Da parte di Vivala Il frutto Madonna Grazie ragazzi E al prossimo video Ciao a io Ciao a io Ciao a io Ciao a io Grazie.